. Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, la foto della famiglia riunita. . Simone Inzaghi insieme a Alessia Marcuzzi e la sua compagna, la foto. . Alessia Marcuzzi ha caricato durante la serata di ieri una bellissima foto che la ritraeva in compagnia del suo ex fidanzato Simone Inzaghi, la sua nuova compagna Gaia Lucariello, il figlio che ha avuto con il calciatore Tommaso e ovviamente il suo attuale coniuge Paolo Calabresi Marconi. . Alessia, fiera della sua famiglia allargata, ha mostrato anche questa volta che è riuscita a mantenere un rapporto speciale con tutti i suoi ex, senza avere particolari gelosie o risentimenti. . La Marcuzzi inoltre nella didascalia dellimmagine ha voluto scrivere la parola famiglia, aggiungendo anche tanti cuori. . . La conduttrice dellIsola dei Famosi non ha mai nascosto lamore per la sua famiglia allargata, in cui sono compresi anche Francesco Facchinetti e la sua nuova compagna. . Alessia aveva fatto la stessa cosa durante questa calda estate, pubblicando sul suo profilo Instagram scatti provenienti dalla sua vacanza vissuta insieme a Gaia, fidanzata del suo ex. . . La Marcuzzi infine ne ha parlato orgogliosamente anche durante la sua recente ospitata Chi ha incastrato Peter Pan, in cui ha fatto anche una clamorosa dichiarazione sul reality che andrà a condurre nel 2018. . Alessia Marcuzzi accena con Simone Inzaghi, la mia famiglia. . Alessia Marcuzzi a Chi ha incastrato Peter Pan ha infatti voluto zittire tutte le cattive voci che non la volevano più al timone dellIsola, l'ex di Simone Inzaghi, rispondendo alla domanda di un bambino, ha infatti affermato che attualmente sta preparando la nuova edizione del programma, e sta cercando insieme al suo team nuovi concorrenti. . . . La bionda conduttrice ha inoltre palesato che tornerà in televisione a gennaio, ma ha poi cambiato discorso, non spoilerando nientaltro. . 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